bentornati ripartiamo ripartiamo adesso andiamo a aspettare l'isoletto lì che è un po e passa dunque qua è arrivato qualcuno no però 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 Proveniva in me dal good neighbor. Meno male però, mi scliccate. Allora andiamo a vedere cosa c'è di là. Poi devo andare a vedere tutte quelle navi lì. A ver se questo però ho già visto. Lo deixano dentro. E... Non si vede niente. Il mireno notturno è bello perché appunto di notte serve però. Col sole così non si deve essere. Ok. Allora andiamo. Allora andiamo. Allora andiamo. Beh. Non lo sento addosso. In teoria non riesce a salire. Allora andiamo. 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 Allora andiamo! Allora andiamo. il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 vediamo se spunta Piper non è difficile strano che non si è arrivata di solito si disincaglia sta notando non a a parte di spegnere roba prima di partire non le ha spegnato non 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 c'è vero, non c'è vero, non c'è vero. Bene, bene, c'è un po' di roba da trattare. Allora... 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 Nice. Allora... 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 Andiamo a vedere... Qui ci sarà tipo una pompa dell'acqua... Allora... 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 c'è roba davvero a parte che poi deve venire in un secondo muro si vengo e ritorno a fare un giro dove vado a lasciar giù la roba vediamo listo vedo se riesco anche a sbaggare parico vediamo non sei che c'è l'ingresso come si permette questa gente? il riso deve diventare mia questa parte è anche la bottiglia no vediamo se si ma vai no sono proprio vabbè quando riapiro il gioco spero che si si stenga vabbè lui aveva anche una perk allora una cosa che mi può servire adesso sono il riso è che è che è questo che è questo è questo è un gioco è questo è questo è questo è questo è questo E ho questo. Carica colpi che non sa va, boh. Senza manetta. Sui punti esperienza. Allora, direi che ho preso. Sì. Sì, è vero l'acqua delle pozzante, no? Sì, è vero l'acqua delle pozzante, no? Sì, è vero l'acqua delle pozzante, no? Guarda te! Guarda te! Torniamo alla Maison. Sì, è vero l'acqua delle pozzante. No, mi c'era il ruolo. Materiale. Sì, è vero l'acqua delle pozzante. Sì, è vero. Sì, è vero l'acqua delle pozzante. Sì, è vero l'acqua delle pozzante. Sì, è vero. Sì, è vero l'acqua delle pozzante. Sì, è vero. Sì, è vero l'acqua delle pozzante. Sì, è vero l'acqua delle pozzante. Sì, è vero. Sì, è vero l'acqua delle pozzante. Sì, è vero l'acqua delle pozzante. Sì, è vero l'acqua delle pozzante. Sì, è vero. giusto per dare un po' un attimo una... porta di lì va bene va bene fuck you cazzo, fa che hai perduto due foglioni ah, avevo fatto un colano nuovo cazzo 3-3 3-3 3-3 3-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 6-3 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 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3